Renzo Marinelli, Presidente Commissione Cultura Regione Marche, un commento alla serata? Sicuramente è una serata splendida, ringraziamo per l'accoglienza del Comune di Senigallia. Stiamo qui a presentare Marche Storie che è arrivato al terzo anno e sta diffondendosi sempre di più una serie di eventi che fa valorizzare quelli che sono i nostri borghi, le nostre storie. Quindi benvengano queste iniziative, servono per far vivere i nostri borghi, servono per farli rinascere quindi noi le sosteniamo e cerchiamo di fare in modo che tutti coloro che sono stati ammessi possano poter effettuare questi spettacoli. Quindi anche come Commissione Bilancio cercheremo di trovare risorse affinché tutti i progetti possano essere realizzati. Grazie. 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 Grazie.